Nel pieno rispetto della Chico Muniter le regioni italiane si impegnano mettendo a disposizione competenze e accompagnando il processo affinché i paesi e soprattutto i territori possano più facilmente entrare nell'Europa. E lavorare in questa prospettiva per rafforzare il rapporto che esiste tra le municipalità e i cittadini, accorciando la distanza tra le politiche che le pubbliche amministrazioni mettono in piedi e i benefici dei cittadini.